Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 italiana, alziamo il coato dello stadio con l'augurio dei prossimi campi avanti mondiali di Quattro Città d'Italia. Vi invitiamo a sasere la nazionale italiana al prossimo mondiale, la partita sarà l'undici settembre l'esordio a Dockland, a North Arbor contro l'Australia, mentre sabato prossimo l'Italia sarà a Murrayfield contro la Scozia. Un saluto a Sergio Parise, capitano e a tutti gli attori. L'applauso dello stadio con Luzzi e un ringraziamento, anzi, un dono ringraziato agli amici del Japone, ai bambini di Fukushima, all'associazione Inchiamoli a Vivere, alle famiglie coordinate dall'associazione che ospitano i bambini colpiti da Pessarra Genia. Un saluto a la zona dei vicini del fuoco che parte il 24 per gli Stati Uniti e i mondiali Grazie a tutti.